Parliamo di Monkey Man, film diretto da Dev Patel, scritto da Dev Patel, interpretato da Dev Patel, che è questo attore, insomma, abbastanza noto, che ha fatto qualche film. È un film che doveva uscire direttamente su Netflix, invece uscirà il cinema il 4 aprile, perché pare, leggenda narra, che Jordan Peele abbia visto il film, lo abbia apprezzato e abbia spinto per farlo uscire nelle sale cinematografiche. E uno dice, wow, cavolo, chissà cosa ci aspetta. Cosa ci aspetta? Allora, siamo di fronte a un genere che a me non piace molto, non mi piace più, insomma, non ha, difficilmente è un genere che ha qualcosa da dire, se non appunto mostrare una trama di base che vede la vendetta o, insomma, la liberazione di qualcuno da un oppressore, e infatti qua siamo più o meno nella stessa situazione. Un giovane arrabbiato, molto, molto, molto arrabbiato, con degli oppressori, siamo in India. Ci sono tante cose interessanti e tante cose non interessanti in questo film. Quello che posso dire subito è che se non avete troppe pretese e vi piacciono i fili di botte, questo film fa il suo dovere adeguatamente e in più è anche un po' più originale di tante altre cose che abbiamo visto. Ma dove è originale, poi, purtroppo, invece che esplodere nella sua originalità ed essere qualcosa di diverso, invece poi va a ricalcare troppo spesso, va a ricalcare proprio cose già viste del cinema action, di arti marziali, eccetera. A cominciare da John Wick, che è un riferimento in realtà, è un riferimento in questo film, tant'è che non solo viene citato in una battuta, ma il protagonista si presenta con questo completo per affrontare i cattivi, eccetera, mentre invece in realtà la parte più figa di tutto il film, secondo me, proprio quella più potente, quella che avrei fatto un film solo su quello, è il Monkey Man. Chi è il Monkey Man? È lui che con una maschera di scimmia combatte nei bassi fondi per guadagnare. Quella è la parte bella. Infatti è molto strano come non si siano resi conto che il personaggio perde proprio fascino quando si toglie la maschera da scimmia e si mette il completo da John Wick. E lì proprio c'è una perdita di fascino. Il film è stranamente recitato in inglese, con un accento indiano, ma è ambientato in India. Questo per me è uno strano cortocircuito che mi disturba per tutto il film, chiaramente, perché non ha nessun senso. Però è vero anche che il film vuole essere un po', come dire, non grotesco, però surreale a volte. Vuole essere un po' una fiaba, qualcosa di non troppo realistico, quindi anche abbastanza pieno di eccessi. Devo dire che le scene di combattimento non sono tantissime, sono anche molto attese per tutto il film perché c'è tanta preparazione che a me non ha neanche disturbato molto, però penso che un amante dei film di arti marziali o di action ci vuole arrivare prima al dunque. Però devo ammettere che, a parte appunto il fatto di essere veramente un film banale nella sua storia e appunto troppo spesso ricalca i suoi predecessori, è un film girato molto bene. Cioè la regia è bella, la regia è figa di questo film. La regia, la fotografia, le scenografie, è tutto fatto molto molto bene, i combattimenti sono belli e chiaramente non sono né più né meno di quelli di John Wick o altri film di questa generazione qua. Sono tutti fatti piuttosto bene, si assomigliano anche l'un l'altro. Ecco, questo film è un po' più violento forse, c'è più sangue, c'è più crudeltà, c'è tanto sangue, c'è tanta violenza. Non sono solo pugni e calci, ma ci sono delle belle scene pesanti. Diciamo che non è il mio genere, però se devo vedere un film di arti marziali o comunque action, questo è un film quantomeno che ci mette dentro delle tematiche, ovviamente sulla disparità sociale tra ricchi e poveri, c'è anche una strana, una particolare parte dedicata all'identità di genere, diciamo. Ci sono tutte le cose curiose, un po' così, un po' fantasiose. Questo è un po' tutto in realtà su Monkey Man, secondo me è un film che appunto o ti piace il genere o è meglio se lo eviti. Se ti piace il genere è un buon film indiscreto, questo è tutto.